Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su FUT17 Draft Simulator. Prima di iniziare il video, spolliciate. Cerchiamo di superare i 20.000 like. Io, come vedete, ho trovato Ronaldo 99 e Messi 98 e Lewandowski di punta, anche se non fa intesa. Adesso andremo a fare una partita. Prima prendiamoci il manager, io direi Ramos. Siamo riusciti a fare un 173. Abbastanza buono. Siamo riusciti a fare un'altra parte. Guarda, l'abbiamo vinto, credo. Sì, sono passati. Dove, dove? Messi, grana! Sì, semifinale. Come vedete, la finale. Abbiamo perso la semifinale. Comunque vediamo cosa troviamo su questi due pacchetti. No. Dai, 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 dai. Ok, io direi qua di finire il video. Mi raccomando, spolliciate. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao. Grazie.